Inaugurata a Taranto, in Via Mazzini, la nuova sede provinciale del Movimento 5 Stelle. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato il senatore Mario Turco, in qualità di vicepresidente nazionale del Movimento, Francesco Nevoli, coordinatore provinciale, il consigliere comunale Mario Odone, l'assessore comunale Maria Lupino, attivisti, candidati e amministratori della provincia in carica. Questo evento rappresenta un primato, la prima sede del Movimento 5 Stelle, aperta in Italia e dedicata ai cittadini. Innanzitutto parte da Taranto il radicamento sui territori del Movimento 5 Stelle. Una casa dei cittadini per Taranto, che servirà per dialogare con i cittadini. Iniziamo questo percorso proprio da Taranto, alla mia città, al fine di favorire quella partecipazione dei cittadini alla politica e alla tutela dei diritti civili e soprattutto alla tutela dei beni comuni. A Taranto noi ci siamo, iniziamo questo percorso per costruire un futuro diverso alla città di Taranto.